I servizi garantiti sono molto utili e importanti, dall'assistenza legale e psicologica nel momento in cui inizia la procedura, sino all'arrivo del bambino in famiglia e anche nel periodo successivo. Gli offrirà un innovativo sportello promosso dal comune di Gaeta presso il suo centro servizi in via Firenze, quello per le adozioni internazionali. La sua presentazione è avvenuta nel corso di una conferenza stampa e vuole naturalmente venire incontro alle esigenze di tante coppie di Gaeta e degli altri comuni del Golfo impegnate a coronare il sogno di diventare genitori. A gestire l'innovativo servizio, il primo in provincia di Latina, sarà l'associazione di volontariato Ernesto Dimola, un ente autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali della presidenza del Consiglio, nata nel novembre 2003, grazie all'iniziativa di una coppia di genitori che, realizzato l'anno precedente il proprio progetto di adozione, ha inteso poi proseguire il proprio impegno nei confronti di tanti bambini abbandonati. La coppia deve già aver ottenuto un decreto di idoneità che viene rilasciato dal Tribunale, da dove risiedono, a seguito di un percorso fatto con i servizi sociali. Da noi arrivano con questo decreto, devono dare mandato a un ente entro un anno dal rilascio del decreto e da noi fanno un percorso di preparazione per l'adozione, dopodiché nel giro massimo di un anno vanno sicuramente in Ungheria per l'adozione di un bambino o più minori, a seconda di quello del decreto che gli è stato rilasciato. Nel corso degli anni l'Associazione Ernesto ha aperto numerose sedi in tutta Italia. Dal 2007 poi opera come mediatrice nell'adozione internazionale in Ungheria, ma vanta anche importanti collaborazioni con associazioni accreditate per le adozioni in Brasile e Bulgaria. Si accede infine allo sportello per le adozioni internazionali previo a un appuntamento, da prendere inviando un'email all'indirizzo di posta elettronica alessia marini di Biasi e chioccelalibro.it, oppure contattando i numeri 328 57 82 200 e 0771 46 50 54.